La procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta sulle morti di anziani colpiti dal coronavirus nelle RSA di Montevarchi e Bucine nel Valdarno Aretino, 26 in tutto le vittime di cui 15 a Montevarchi. Le ipotesi di reato vanno dall'omicidio colposo plurimo alle lesioni colpose plurime fino alla violazione della normativa anti-infortunistica per i dipendenti. Il fascicolo non ha indagati al momento, vi sono riuniti tutti gli esposti già presentati in procura tra cui quello del Comitato delle Famiglie della RSA di Bucine, quello del sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai, dei familiari dipendenti e persino esposti anonimi. Titolare dell'attività di indagine è il procuratore facente funzioni Luigi Bocciolini. I carabinieri del NAS si avvarranno del supporto operativo dei carabinieri del Valdarno che hanno già acquisito i primi documenti, a partire dai contratti stipulati tra le famiglie degli anziani e le strutture sanitarie assistite.